non riusciamo proprio a chiudere ste partite il diz di pochissimo stava quasi segnando il 3 a 2 e da in questo momento da questo momento io Danilo non lo voglio più vedere titolare non lo voglio più vedere titolare per favore professor Tietiagomotta fai giocare al primo minuto calure insieme con gatti fai questo favore lasci Danilo in panchina e così almeno magari magari entrerà partita in corso e invece ne hai fatto giocare titolare cioè Danilo ormai non è più quelli degli altri anni scorsi ora si sta trovando cioè in una fase calante per quello che avevamo notato che oggi per lui non era non era proprio nella partita abbiamo affrontato ragazzi un Parma che ha fatto ha fatto esattamente 5 pareggi di fila e anche noi 5 pareggi di fila ha fatto 5 pareggi di fila e aveva vinto nelle prime giornate contro il Milan Altardini e loro sono venuti qua a Torino dopo tre minuti non puoi prendere da loro da Del Prato e poi l'altro ragazzo che è svizzero ha segnato pure Somme poi innanzitutto ha segnato il Parma con Del Prato poi abbiamo spareggiato con McKennie poi loro hanno segnato il 2-1 con Somme e nel secondo tempo ci siamo ripresi dopo che ha segnato Timothy Weah e l'ha buttata dentro con un colpo di karate alla Bruce Lee non riusciamo veramente a chiudere sta partita che noi dicevamo prima del match che contro il Parma bisognava fare punti bisognava assolutamente vincere sta partita non puoi permetterti di di farti ancora sovrastare e pareggiare infatti pareggiare dal Parma e subendo questo secondo pareggio di fila in campionato dopo che abbiamo pareggiato a San Siro per 4-4 dopo che abbiamo fatto un secondo tempo stellare che stavamo cercando di chiudere sto derby in Italia completamente pazzo non abbiamo fatto niente per tutta la partita e nel secondo tempo un po' abbiamo reagito la squadra se non ingrana se ne continua ancora a non ingranare nelle migliori condizioni non riusciamo a rimanere tra tra le prime 4 tra le prime 4 nella zona Champions e questa squadra non è costruita per andare solo in Champions League è costruita per essere tra le candidate a vincere lo scudetto adesso il Napoli che ieri ha vinto ha battuto il Milan io ci speravo in un pareggio per i per i rossoneri a cui mi sono sentito con Matteo uno dei membri del senatore di Tifosi di Enzeric cioè ci siamo sentiti qualche giorno fa e io gli ho risposto fateci un favore pareggiate 0-0 o vincete e invece il Napoli ha vinto 2-0 e adesso la prossima in campionato dobbiamo affrontare l'Udinese andando a giocare in trasferta a Udine in Frui Venezia Giulia lì bisogna assolutamente fare punti non possiamo permetterci di andare là a pareggiare e fare la stessa metà della prestazione nel secondo tempo quando stavamo cercando di chiuderla sulle 3-2 con Ildiz che si è mangiato un gol di pochissimo mamma mia Ildiz per di pochissimo e poi gli ultimi due calci d'angolo completamente andati a male uno tra Locatelli che si è fatto murare si è fatto murare da uno dei nostri che ci ha fatto negare il 3-2 però col Parma non ti puoi permettere di presentarti in questa maniera perché questa era una partita a vincere per cui Chiagomotta io ti faccio ti faccio ti faccio dire sta cosa non mi mettere più in campo Danilo e fai giocare Calulu insieme a Gatti per favore professore io ti voglio bene non sono uno di quei tifosi che parlano male di te dicendo Chiagomotta peggio gli allegri no io non sono quelli là io comunque qualche critica la faccio ma non voglio buttarmi avanti pesantemente abbiamo fatto bene metà del secondo tempo poi ci siamo mangiati quel gol davanti alla porta proprio al novantatresimo al novantatresimo con Ildiz che il difensore del Palma l'ha salvato e Ildiz era lì pronto sul primo palo a colpirla e poi ce l'ha fatta degli anni in calcio d'angolo adesso però sto pareggio per la seconda volta la seconda volta di fila adesso però se facciamo ancora altri pareggi non riusciamo più a risalire la classifica la prossima saremo in trasferta con l'udinese ed è lì bisogna andare a fare punti quindi ragazzi testa bassa e pedalare dimentichiamoci quello che è successo stasera andiamo la Udine e pensiamo di fare punti prima di pensare alla prossima con l'Ild in Champions League in trasferta in Francia dunque io comunque questo post partita lo concludo e se il video è piaciuto lasciate mi piace commentate iscrizione al canale mettete la campanella qua lo spesebbe è tutto e noi ci vediamo al prossimo video alla prossima